Ha scelto la via del silenzio Pasquale Solari, il vigile accusato di avere marinato per mesi il lavoro oggetto di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara. Davanti alla Commissione Disciplinare del Comune Pescarese non ha risposto nonostante rischi il posto di lavoro. Il maresciallo della Municipale, 61 anni, accusato di truffa pluriaggravata ai danni del Comune perché, per l'accusa, timbrava il cartellino ma poi si dedicava ad attività che nulla avevano a che fare con il suo compito, cioè quello di pattugliare l'area della riserva d'Annunziana. Parallelamente all'inchiesta penale corre dunque anche il procedimento disciplinare intrapreso dal Comune di Pescara con Solari che dal momento dell'arresto è stato sospeso dal servizio. Davanti alla Commissione composta dal Direttore Generale Pierluigi Caputi, dal Vice Guido Dezio e dal Comandante della Polizia Municipale Carlo Maggitti, il vigile si è limitato ad annunciare che presenterà una memoria difensiva redatta assieme ai suoi legali, gli avvocati Massimo Solari e Pasquale Provenzano. La memoria dovrebbe essere consegnata nelle mani della Commissione entro la fine del mese, mentre la procedura dovrebbe concludersi entro il mese di novembre. Nel passato di Pasquale Solari ci sono anche altri provvedimenti disciplinari emessi dal Comandante Maggitti perché il maresciallo non rispettava la consegna di timbrare il cartellino all'interno del comando di via del circuito.